Radio Sound 24, la trovi in FM e DAB e in streaming ovunque ti trovi. Buonasera a tutti gli ascoltatori Radio Sound 24. Oggi è lunedì 2 maggio e abbiamo alcune notizie che riguardano sempre la sicurezza. Allora, abbiamo avuto un riscontro già sui beni confiscati alla mafia e avevo chiesto insieme agli assessori regionali alla sicurezza di Lazio e Toscana di riequilibrare le risorse del PNR dando risorse anche al nord mentre la maggior parte dei fondi erano stati destinati alle regioni del sud. Oggi anche il Presidente della Regione Valdaosta ha aderito alla nostra richiesta e ha firmato la nostra richiesta che viene rivolta al Ministro Carfagna per aumentare i fondi alle regioni del nord, per risistemare, rimettere in condizioni di agibilità per consegnarle alla vita dei comuni i beni confiscati alla mafia. Poi abbiamo una rissa fuori da una discoteca. A Milano, nella zona di Via Padova, sono stati dati calci, pugni tra sudamericani a un locale che è già stato chiuso quattro volte dal questore, il Gozzadera. I milanesi comunque che sono rimasti e che sopravvivono a una enorme quantità di immigrati che ormai sono presenti in tutta la zona tra Padova, Loreto, Costa, Leoncavallo, farebbero molto a meno di quella mala movida multietnica che c'è ormai nei locali intorno a Via Padova. Ricordo che in piazzale Loreto c'era stata una rissa tra 12 peruviani in un bar ed era stato chiuso per 15 giorni. Questa dimostrazione che c'è una situazione che ormai è totalmente fuori controllo in Via Padova, ma lo è anche in centro. Qui figuriamoci cosa può esserci in Via Padova. Poi abbiamo una situazione, un'altra violenza sessuale, questa volta a Brera. Ora è chiaro che mentre a Milano in tribunale oggi le vittime degli abusi che furono fatti a Capodanno, ricordate il 31 dicembre nella notte di Capodanno, ci furono varie violenze in piazza Duomo, sotto il Duomo. Ora oggi abbiamo uno del Bangladesh che ha molestato una donna in quello che è il quartiere più chic di Milano, e cioè Brera. E in Italia abbiamo che nel 2022 i dati ci dicono che sono arrivati nel nostro paese 1.545 migranti dal Bangladesh. Siamo secondi, sono questi migranti del Bangladesh, sono secondi per sbarchi. Prima di loro ci sono gli egiziani. Questa dimostrazione della situazione che è ormai fuori controllo. Poi abbiamo un centro massaggi chiuso, indovinate, cinese, tanto per cambiare. In Viale Brigny, chiusura di questo ennesimo luogo di prostituzione, denunciato dalla proprietaria cinese, li hanno beccati, mentre all'interno di questo centro massaggi si facevano ovviamente ben altre attività e stavano consumando una... stavano facendo proprio prostituzione allo stadio puro. Quindi credo che sia necessario andare avanti con quei controlli che noi avevamo inserito in una nostra proposta di Fratelli d'Italia quando ero capogruppo nel 2020 che è stato poi un regolamento regionale che è stato validato dal TAR. L'ultima notizia è quella del TESER. È una buona notizia perché è stato dato parere favorevole alla richiesta che avevo rivolto alla conferenza Stato-Regione, al Presidente della Regione Friuli, Fedriga, che è a capo di questo organismo, per un parere immediato del Ministero dell'Interno per fornire la pistola elettrica anche alle polizie locali. Quindi a breve avremo l'approvazione definitiva. Intanto il Tavoloteco ha dato questo parere favorevole. Chiedo inoltre che venga esteso anche ai comuni con più di 30.000 abitanti. Ad oggi il TESER lo si può dare solo ai comuni fino a 100.000 abitanti. Io vi ringrazio e ci risentiamo domani alla stessa ora con Radio Sound 24. Buona serata a voi. Radio Sound 24. Play your life.